Anche se solo al tie break alla fine la vittoria è arrivata e così la Carife ha scutato i due turni casalinghi per risalire ulteriormente in classifica così come era negli obiettivi della tabella salvezza. Altri due punticini in cascina che fanno certamente morale ma senza dubbio, visto l'inizio di gara, nessuno pensava che si potesse rimettere in discussione addirittura il risultato finale. A dire il vero, nelle fasi conclusive del secondo set, dopo che il primo era stato chiuso a 16 senza problemi, si era già avvertito un certo rilassamento degli atleti ferraresi che aveva suscitato mormorio tra il pubblico. Anziché chiudere con un altro punteggio basso, i Luzzi e compagni sono riusciti a dar fiato alla formazione reggiana sino a quel momento inguardabile. La chiave di volta, letta nei numeri, sta tutta nel servizio, puntuale ed efficace all'inizio, inconcludente e condito di numerosi errori con diversi palloni scagliati a metà rete nella seconda metà della partita. Con la ricezione avversaria che prende tono, Brianti comincia a far viaggiare i suoi centrali che mettono giù tutto quello che arriva da quelle parti facendo anche numerosi pallonetti, altra testimonianza di una pericolosa ed inopportuna caduta di concentrazione in casa Granata. I deboli tentativi poi che i ragazzi di Coccia Zambelli mettono in atto per ritornare in gara si infrangono sempre nella continuità in attacco dell'opposto reggiano Prato. Contro i suoi diagonali il muro e la difesa della Carife non riescono ad opporre sufficiente resistenza e ogni volta che i ferraresi si rifanno sotto arriva un plateale errore in servizio a dare ulteriore coraggio agli avversari. Il 2-2 e quindi la roulette russa del tie-break arriva con un severo doppio 21-25 che non lascia presagire nulla di buona. La paura di perdere è palpabile e l'inizia della gara ora è certamente a favore dei reggiani in quanto si trovano ad iniziare il 5-7 contro una squadra che appare smarrita e con poca capacità di lottare. Come succede spesso nella pallavolo invece la doccia fredda sortisce buoni effetti e così finalmente il muro riesce a costruirsi un tie-break importante fermando un attacco dal centro ed un diagonale di Prato che porta le squadre al cambio di campo sull'8-6 per la Carife. Il resto lo fa Bergantino in battuta siglando il 10-7 con un ace ma martellando sino al 12-7 senza dare la possibilità di costruire un gioco efficace al Campagnola. Di fatto la gara si chiude qui perché ora sono i ragazzi di Barozzi che non ci credono più e consentono al gruppo estensi di esultare al centro del campo per lo scampato pericolo. Sabato trasferta sulla carta proibitiva Iesi per poi tornare davanti al pubblico amico con un altro scontro diretto per la salvezza con il Castelferretti. Grazie.